bene piano sto vicino al fondo valle mappa te qua si scivola mappa te ma sembra fa lo slalme gigante qua c'è il neve si scivola devo fare in diagonale però qua bisogna stare attende sotto i piedi si può essere una roccia un vuoto massima precauzione allora arriva qua alla fondo valle e se non erro si sono ricombinati ricombinati significa quasi quasi il percorso quello quando for sale ecco qui comunque questo percorso fatta eccezione nella mia impronta è stato un diavai di cinghiale cinghiale si qua pieni di cinghiale impronte di cinghiale qualche volta ma c'è più cinghiale adesso qua sono sicuro del percorso atto idoneo celere cioè celere non vado veloce c'è l'impronendo al percorso che ho fatto l'assist in mezzo ai gineti quindi posso rallentare il ritmo sono più calmo il pacato più rilasciato e quindi condividiamo questo percorso bene qui avanti c'è il percorso questo è il percorso questo è il percorso che sono stati fatti dalla lombra ma facciamoci che c'è un progetto